un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo abbiamo il libro di padre pio capuano con padre pio come in una fiaba tra sogno in realtà padre pio capuano spesso è tornato nei suoi scritti sull'argomento militare servizio militare prestato da padre pio da pietrelcina oggi vogliamo raccontarvi quando questo servizio militare è terminato era il 16 marzo del 1918 un anno importante per padre pio da pietrelcina termina così anche questa parentesi della sua vita e vogliamo raccontarvi quello che accadeva proprio nei giorni precedenti e quella giornata il 16 marzo del 1918 ecco ricordiamo che il 5 marzo era appena giunto nel capoluogo campano quindi si recò subito dal professor serrano che gli disse di presentarsi l'indomani e di tenerlo informato di tutto il giorno dopo il 6 marzo l'ospedale militare della trinità quindi passa una visita medica e risultò favorevolissima come lui scrive nel suo epistolario a padre benedetto quello stesso giorno dovrà andare in seconda osservazione per essere sottoposto così ad altre visite la sera sempre del 6 marzo è inviato nella prima clinica medica letto numero 40 qui diciamo subito che padre pio da un lato era contento perché le cose si stavano mettendo nella giusta direzione per avere almeno un'ulteriore licenza quindi poter tornare nuovamente qui a san giovanni rotondo in convento dall'altra però soffriva soffriva terribilmente padre pio per questo stato di cose perché fu privato di ecco lui scrive a scendere all'altare del signore per celebrare lui non poteva celebrare la messa infatti lui scrive sono tre giorni che sono stato privato del mio unico conforto che mi rimaneva in mezzo a tante mie amarezze di poter a scendere all'altare del signore per celebrare e sono anche tre giorni che tengo scrive padre pio la febbre a permanenza e non accenna a decadere ma sia fatta la volontà del signore che cosa accadeva queste febbre febbre altissime infatti si racconta che purtroppo quando li misuravano la febbre gli assistenti c'era questa battuta di padre pio nei loro confronti diceva con il sorriso sulle labbra diceva non mi mettete il termometro perché scoppia poi non lo voglio pagare io diceva la temperatura raggiungeva circa 43 gradi e oltre facendo così rompere la colonnina del mercurio dei termometri e allora i medici non riuscivano a dare una spiegazione a tutto questo proprio per questa febbre così alta lui non mangiava nulla perché sentiva una forte avversione al cibo che addirittura li provocava anche il vomito e gli infermieri ricorrevano ai termometri per vasche da bagno e registrarono la temperatura fino a 48 gradi cosa successe in questi giorni finalmente gli ufficiali medici si riunirono a consulto vista la situazione visto il paziente dopo aver analizzato tutte tutte le analisi decretarono il soldato francesco forgione matricola 12 mila 94 e affetto da tisi gli diedero circa 15 giorni di vita infatti a bruciapelo gli dissero caro soldato forgione ti mandiamo a morire a casa quello stesso giorno il 15 marzo accadde questo del 1918 lui scrive a padre benedetto sono superlativamente lieto della grazia divina che gesù mi accordata con liberarmi dalla milizia completamente è proprio come risulta dal foglio matricolare era stato riformato in seguito a rassegna per bronco alveolite doppia e era il 15 marzo del 1918 chiaro che questa determinazione che arrivava dalla direzione dell'ospedale militare di napoli fa seguito al congedo congedato a seguito della suddetta rassegna il 16 marzo del 1918 e su questo foglio e questo va precisato e va sottolineato che è annotato che il soldato francesco forgione aveva serbato buona condotta e aveva servito con fedeltà e onore la patria